Considerato il curriculum degli studi, a seguito delle risultanze della votazione per i poteri conferiti dalla legge, proclama i seguenti candidati, comito Vincenzo Bruno Maria, con voti 94 su 110. Un video messaggio. Da me e Alessandra, sei un pochino una merdaccia, perché ci hai lasciato solo da me, a Piero e Alessandra. Non la vi permette, lo avrei a prima e non. Cazzo. Ma quello dovevi fare? E quello dovevi fare? Mi chiede. Semplicemente. Semplicemente questo. E' baffanculo, viste che ci sta. Se non metto. Baffanculo, c'è un pezzo di merda. Piero. Vincenzo vaffanculo. Vincenzo vaffanculo. Vincenzo vaffanculo. Vincenzo, vaffanculo. Vincenzo è un bravo ragazzo Vabbè vaffanculo vai Ti voglio bene Vabbè vaffanculo va in tutto il cuore Vincenzo vaffanculo Fack my ass Vincenzo vaffanculo 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 perché non mi hai spettato Che merda che sei Vincenzo vaffanculo Mi fanculizzo da solo Vaffanculo Vincenzo Ciao Vincenzo Vincenzo Vaffanculo Vincenzo sei una merda Perché? Non te la puoi fare A bere del whisky a Roxy Eppure non ci incontreremo mai Ognuna a rincorrere ai suoi guai E il piccolo salmone Un controcorrente va Iiii Vengi in alzo Vincenzo sei una merda Vincenzo sei una merda Vincenzo sei una merda